Dottore Dirolenzo, le conclusioni di questi due giorni di convegno nazionale di chirurgia a Caltanissette, il bilancio? Sicuramente sono stati due giorni intensi che hanno visto abbracciare una multidisciplinarità per quanto riguarda la gestione del trauma di interesse chirurgico e questo abbraccio tra infermieri, operatori sociosanitari e chirurghi ed anestesisti è stato molto forte e apprezzato dalle tre comunità scientifiche che hanno sposato quest'idea cioè la COI, l'AICO e la SICUT Abbiamo voluto creare proprio un momento sinergico centrale dove non poteva mancare assolutamente l'arte che l'abbiamo utilizzata anche come veicolo perché è giusto che la popolazione sappia che nella città di Caltanissette esistono delle bellissime rappresentanze autoctone sulla chirurgia e sulla gestione del trauma che però hanno avuto la giusta umiltà, come è giusto che ci sia, nel confrontarsi con le migliori rappresentanze italiane e questo ha fatto sì che è scaturita una programmazione e a breve avremo anche il coordinamento di un'applicazione che parlerà di trauma e che partirà dalla città di Caltanissette